L'attuale presidente del Consiglio Comunale Alberto Santorelli del PDL e il consigliere comunale Latoafano Luca Serfilippi andranno a sostituire nel rimpasto di giunta rispettivamente l'assessore al turismo Marco Paolini, PDL, e l'assessore al personale Giovanni Maiorano, Latoafano. Rispetto a due anni fa, quando noi presentavamo il nostro programma elettorale e su quel programma vincemmo le elezioni, sono cambiate molte cose. Occorre ricalibrare un attimo l'azione di governo dal punto di vista programmatico, ci siamo ridati di fatto un programma rinnovato e su questo nuovo programma si rilancia l'azione di governo guardando anche oltre il 2014. Per fare questo occorre anche un rinnovamento in alcune figure e in questo caso ci sarà l'ingresso in giunta nei prossimi giorni di Luca Serfilippi, ragazzo 23enne, giovane consigliere comunale della Latoafano, e di Alberto Santorelli, anche in questo caso giovane consigliere comunale, oggi presidente del Consiglio, esponente del PDL. Posso spendere invece parole di elogio per le due persone che vengono sostituite. Qui non c'è una volontà di punire delle persone, c'è una volontà di aver individuato qualche anello debole all'interno dell'amministrazione comunale che vanno in qualche modo riprese e rilanciate. Io voglio ringraziare sinceramente, dal profondo del cuore, queste due persone che hanno condiviso, anche se per un periodo non lungo, questa attività dell'amministrazione comunale, ma voglio anche sperare o spiegare che al di là dell'amicizia che mi lega e spero ci leghi, possono essere anche persone che diano ancora un contributo alla politica di questa città e alla coalizione Uniti per Fano che continuerà a governare questa città. Non è che la politica si fa solo ricoprendo ruoli istituzionali o amministrativi, la si fa anche militando all'interno delle coalizioni, portando avanti le proprie idee all'interno dei partiti e della città. Grazie per la visione!